Al di Tella il vasto Girardi supera 2 a 0 il Castelnuovo Vomano e mantiene la permanenza in Serie D anche per la stagione prossima, ovvero 2022-2023. Grande prestazione dei ragazzi di Prosperi che certificano quello che il campionato aveva espresso. Davvero un peccato dover fare i play-out con ben 46 punti all'attivo. Con il montaggio di Francesco Di Rienzo andiamo con la cronaca. Al secondo prima emozione Gargiulo sulla sinistra si inserisce Guadalupe, rimpallo per Alagia, conclusione alta da ottima posizione. Quinto sempre i gialli, Guadalupe in buca per guida, controllo in piena area, destro troppo centrale. Al settimo il piazzato di Ruggeri, c'è la precisione, manca la forza, Alonzi respinge poi Alagia, palla in corner. Avvio nettamente di marca locale, ottimo l'approccio degli uomini di Prosperi, 29esimo pericoloso il Castelnuovo, lancio lungo, esce di Stasio, palla per Emili che insacca con un pallonetto ma il gioco è fermo per Pacella di Roma 2. C'è fallo, dico lì, ai danni del portiere locale. Passiamo al 32esimo, spunto di Degidio, tunnel, palla per Foglia che prepara il sinistro, buona la conclusione. Trentasettesimo, il parziale cambia, piazzato dai 35 metri va il capitano Sergio Ruggeri, collo secco, sfera sotto il 7, punizione spettacolare per l'1-0 nel replay. Andiamo a vedere il piazzato alla Giuninio per Nambucano ed è davvero favolosa l'esultanza di tutti i giocatori. Giallo-blu, quarantunesimo, ripartenza del Vasso Girardi, guida, cerca l'assist, la palla termina a Guadalupe, sinistro da fuori, impreciso. Quarantottesimo, per l'ultima emozione del primo tempo, piazzato di Guadalupe, Ruggeri in sacca di testa, in offside, secondo l'assistente. Partiamo alla ripresa, il vento condiziona la fase difensiva del Vasso Girardi, al quarto subito pericolosi nero-verdi, Emili scarica da fuori, Distasio vola e salva i suoi. Al settimo, super occasione per il raddoppio del Vasso Girardi, Guadalupe trova il corridoio per guida, tutto solo il 10 di casa, non riesce a trovare l'angolo giusto. Al sedicesimo, pressione del Vomano, Foglia, gran sinistro al volo, Distasio si esalta e manda la sfera in corner. Passiamo al ventesimo, sempre Guadalupe, altro assist d'oro, questa volta per secondo, che è il tempo di soppare, ma calcia clamorosamente alto. Il gol è nell'area, arriva al venticinquesimo, pressing regolare di Alagia, che soffia palla a Cangemi. Il numero 11 si invola tutto solo e con un piattone mancino insacca il 2-0 nell'estasi del pubblico locale. Davvero non succede più nulla a livello di cronaca, tanti cambi, una piccola pressione del Casenuovo Romano, ma il Vasso Girardi riesce a mantenere il 2-0 con assoluta tranquillità. Grande la soddisfazione per il presidente di Lucente e tutto lo staff alto molisano. Il Vasso Girardi resta in Serie D.